Uh, lei è carina! Il mio fidanzato deve guidare una Porsche, no! Mi chiamo Monica! Wow! Vuoi fare da papà il mio figlio? Ah! Io posso sollevare un'auto! Hai un amico! Ehi carino! Ehi dolcezza! Aspetta, no! Mi piace la matematica! Vuoi andare da qualche altra parte? Eh, non credo proprio! Ciao! Piacere di conoscerti! Piacere mio! Benvenuti al gioco sì versus no! Vado io! No, io! Ok, insieme! È la sfida del matrimonio! A dopo, allora! Ciao! Un regalo! Per me! Oh, è per le prime due settimane insieme! Ok! È così eccitante! Chissà cos'è! Lo amerai per sempre! Per sempre? Un anello! Perché dovresti comprare? Ti amo! Mi vuoi sposare? Eh, sì! Prendi questa donna come tua sposa! Da amare da... Sì! Ok, e tu prendi quest'uomo come tuo sposo? Ssh! Non dirlo! Devo andare! Tesoro! Ti amo! Torna indietro! Ho proprio le scarpe sbagliate per questo! Ma dove sono? No, è solo un cammello! Pensavo fosse il mio fidanzato! Sono troppo giovane per sposarmi! Devo scappare! Lasciatemi in pace! Finalmente al sicuro! Tutto quel correre è stato faticoso! Voglio fare un pisolino! Tesoro! Il mio amore! Dolcezza! Ti ho trovato finalmente! Niente può fermare il nostro amore! Noi ci apparteniamo! Oh, ok! Va bene! Puoi baciare la sposa! Giriamo la ruota! Ecco qui! Sì per me! La sfida del salto! Oh no! No, 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 no! Non esiste! Hai detto di sì! Devi farlo! No, non posso! Io, ehm... Fallo! Oppure... Bene! Se la metti così! Troppo fredda! Ok! È solo acqua! Andiamo! Dovresti imparare a usare il deodorante! Ora salta! Ce l'ha fatta! Non mi sto divertendo! Ok, passiamo alla prossima sfida! Ah, si sente l'odore di mare! Ok, salta giù dal molo! Vado! Lo sto facendo! Lo sto facendo! Lo sto facendo! Sono inarrestabile! No! Cattiva idea! Molto bene! Il prossimo salto! Devi solo saltare da un aereo! Su, forza! Evviva! Per favore, fa che non muoia! Wow, è così in alto! Ehi! Posso vedere casa mia! Il mio turno! Sì, ha... La sfida di Halloween! È ora della vendetta! Delle patatine! Non sono così spaventose! Dai, aprile! Qual è la cosa peggiore che può succedere? Ah! Serpenti! Ah! Essere spaventata da... Wow! Io odio i serpenti! Aspetta! Cos'è quella luce? Non mi piace questo gioco! Cos'è questo? Oh, che noia! No, qui non c'è niente! E' ora di divertirsi! Wow! Oh! Ah! Ma è fantastico! Aiuto, aiuto, aiuto! Oh! Finalmente al sicuro! Ah! È solo un ragno! Oh! Ah! Fammi uscire di qui! Oh! Ora cosa? Perfetto! Ho avuto una grande idea! Non ho una bella sensazione! Voglio succhiarti il sangue! Ah! Ah! Che cosa? Ciao! Non è divertente! Boo! Boo! Il mio turno! No! Vado io questa volta! La sfida della bevanda misteriosa! È ora per una bella bevanda al... Wasabi! Aggiungerò un sottaceto! O tre! E ora devo scuotere! La la la... Delizioso! Ho una bevanda deliziosa e rinfrescante per te! Spero ti piaccia! Oh! Disgustoso! Oh! Che schifo! Vediamo se le piace questa! Ravviviamola un po'! Questa eliminerà quel sapore orribile! Ah! Oh! Sul serio? Che ne dici di un frullato? Con dei fagioli! Delizioso! Ta-da! Ecco qui! Un bel frullato cremoso! Bevi! Non esce nulla! La cannuccia è bloccata! Ok! Questa sarà perfetta! Della Coca-Cola... Ora aggiungo un po' di salsa di soia! Questa è un'ottima idea! Non noterà mai la differenza! Un bicchiere di cola? Ok! Prenderò quello! Eh... Ma... Alla salute! Cosa sfideresti a fare i tuoi amici? Facci sapere nei commenti qui sotto! Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale per altri video come questo! Alla доп fråga! Ciao! 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 Arrivederci sinceri! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!